Tocca appena quattro articoli su 139 della Costituzione, escludendo ovviamente le disposizioni transitori, cosa prevede? Primo, prevede che i poteri del Presidente della Repubblica non vengono toccati, salvo ovviamente il fatto che l'incarico di formare il Governo viene automaticamente assegnato al candidato che si è affermato nelle urne. Secondo, prevede che il Presidente del Consiglio è eletto direttamente dal popolo, viene eletto contestualmente alle Camere e che la legge elettorale deve garantire che il Presidente eletto abbia anche una maggioranza in Parlamento. Terzo, prevediamo una norma antiribaltone e antigoverno tecnico, che dice che nei casi estremi in cui il Presidente eletto dovesse dimettersi o essere sfiduciato dalla sua maggioranza o insomma altre tragedie, l'unica possibilità di non sciogliere le Camere e tornare subito al voto è che un altro parlamentare, quindi non sono possibili governi tecnici, eletto nella maggioranza, quindi non sono possibili ribaltoni, ottenga la fiducia ma solo per portare avanti lo stesso programma e gli stessi impegni sui quali il Presidente eletto aveva già ottenuto la fiducia, quindi è impossibile fare le maggioranze arcobaleno, ma c'è solo la possibilità di portare avanti lo stesso lavoro iniziato da chi è stato scelto dai cittadini.